Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti parlerò di nuovo di Thangarden, gioco della Thundergriff Games che ringrazio perché mi hanno dato la possibilità di ricevere l'ultima espansione, Seasons, nella sua forma di prototipo, perché questo gioco, il 22 febbraio 2022, tanti due in questa data, andrà su Kickstarter e sarà possibile ottenere l'espansione ma anche il gioco base. E non solo il gioco base, anche le prime due espansioni, quindi Golden Ages, mi pare si chiamava Golden Ages, non mi ricordo più perché non ho più la scatola, o meglio nascosta da qualche parte, ho messo tutto nella scatola dell'altra espansione, Ghost Stories, che aggiungono degli scenari al gioco base, essenzialmente qualche piccola variante, tendenzialmente. Ma oggi parliamo dell'espansione nuova, Seasons. Se tu non sai che cos'è Thangarden, puoi andare a recuperare il video che ho fatto qualche tempo fa cliccando il link in alto oppure in descrizione. E adesso invece ci andiamo a vedere una breve e generale panoramica di quelle che sono alcune delle novità che ci saranno in questa espansione, perché ce ne saranno altre che io non ho qui, ma di cui so e però non ti posso parlare. Come puoi vedere qui c'è veramente un casino di roba sul mio tavolo, non ci entra più nulla, ci sono praticamente tutti i componenti del gioco base, più tutti i componenti, quantomeno quelli a me disponibili, delle espansioni che sono presenti in Seasons. Qui ad esempio puoi vedere le lanterne, queste sono delle tessere che fanno parte della versione in cooperativo, questi sono i meravigliosi, anzi guardiamo questo, nuovi panorami che fanno parte dell'espansione delle lanterne, sono davvero bellissimi, ci sono nuovi personaggi con nuove abilità, questo è il blocchetto con i foglietti per la versione con l'asta, perché c'è anche una versione con l'asta. Qui come puoi vedere ci sono delle annessioni alle plance, che queste servono per un paio di varianti, come puoi vedere qui ci sono tutte queste meravigliose foglioline che vengono utilizzate per una versione di Set Collection, qui ci sono tutte le varie schede di riferimento per alcuni dei moduli, insomma dove è necessario, questo fa parte del modulo inverno, se non ricordo male, dove partiamo con il tetto al centro, quello quadrato che vedi lì, invece di questo, e dobbiamo costruirlo con le varie tessere, che poi, eccole qua, troveremo mischiate in mezzo alle altre. Ci sono nuove decorazioni, insomma un sacco di roba. Questo modulo in particolare è molto carino, perché tendenzialmente tu, quando vai a costruire parti del giardino, prendi queste, le metti nella tua riserva, oppure le aggiungi nel sacchetto, che nel sacchetto ci sono alcune di queste foglioline all'inizio della partita, e ognuno parte con una fogliolina, tu scegli se metterle nel sacchetto oppure tenerle per te, perché poi quelle che tu avrai collezionato durante la partita le andrei a moltiplicare per il numero di quelle che sono, dello stesso colore, dentro del sacchettino. Molto semplice, però crea delle dinamiche interessanti. Quando prendi una foglia, tra l'altro, puoi far avanzare il tuo cubetto che si trova, vedi, su questa parte aggiuntiva della plancia, io adesso il cubetto non ce l'ho, e tra l'altro questo cubetto parte, in base al numero dei giocatori, da uno spazio in particolare, e ottieni il bonus soprastante, il che è molto figo, come puoi vedere, perché ti fa ottenere un sacco di bei bonus, tra cui quello di poter rigirare una lanterna. Nello scenario cooperativo, invece, dove già vedi che c'è un layout ben diverso, l'obiettivo è quello di risolvere tutti insieme questi obiettivi, che sono tenuti qui fuori dal tabellone, ce ne sono sempre tre scoperti. Uno viene piazzato all'inizio della partita e, come puoi vedere, altri dovranno essere messi in giro per cercare di risolverli, e hanno tutti degli obiettivi come, per esempio, avere da quel lato del tabellone, vedi, due simboli uguali, tre diversi, oppure, questo dovrebbe essere le decorazioni, queste dovrebbero essere le decorazioni, in quel quadrante in particolare, insomma, sono tutti così. Questa scheda di riferimento, poi, vedi, ti dice che tu puoi utilizzare questa nuova risorsa, possiamo dire, e i giocatori ne hanno tre a disposizione all'inizio della partita, per spostare uno di questi due segnalini, perché in questo scenario si può costruire solo adiacente a questi segnalini, oppure ignorare i segnalini, e, come puoi vedere, ci sono anche dei modi per riottenerli, perché, altrimenti, se quelli finiscono, si perde tutti quanti, invece si vince quando otto obiettivi vengono risolti. Tra l'altro, mettere degli obiettivi costa dieci monete, ovvero dieci punti vittoria, che non è uno scherzo. Anche questo, vedi, delle regole comunque molto semplici, ma delle dinamiche interessanti. E ti devo dire la verità, probabilmente sono terrorizzato dal dire questa cosa, questo modulo cooperativo mi è piaciuto. In questo scenario qui noi andiamo a costruire, come puoi vedere, il tetto di questa parte centrale del giardino. Non c'è più la tessera che c'è di solito. Qui, tra le tessere, potremmo trovare queste che sono le tessere tetto. Ok? Come puoi vedere ci sono anche dei simboli sopra. E quando decidiamo di costruirla, l'andiamo a mettere qui e si mettono prima sulla parte esterna, quando è completa si passa alla parte interna e si va a prendere il bonus che si va a coprire. Ci sono poi queste nuove decorazioni che puoi vedere sono i tetti, essenzialmente sono di tre colori diversi. Queste in particolare non vengono messe sul tabellone, ma le tieni nella tua area di gioco. Ogni volta che ne hai due uguali o tre di colore diverso, queste ti danno la possibilità di mettere un dragone sul tabellone. Il mio prototipo di drago è questo. In base al colore dei tetti che hai, puoi mettere il tuo dragone nello spazio relativo e questo poi, in base poi a quello che vede, essenzialmente anche in diagonale, ti darà la possibilità di ottenere punti vittoria a fine partita per tutti quei famosi simboletti di cui ti ho parlato prima, che sono sopra i tetti. Cosa molto importante, tra l'altro, perché questo dragone, fin tanto che rimane nella tua area di gioco, puoi utilizzarlo per riservare delle decorazioni. Siccome c'è molto meno spazio sul tabellone, perché è occupato da questa parte, da questa casa, oddio, non so che cosa stanno costruendo. Comunque, ci sono meno spazi per le decorazioni e questo ti serve eventualmente per riservare una decorazione che tu hai pescato. ce lo tieni sopra e quella decorazione la piazzerà in seguito quando magari si è sbloccato uno spazio dove poterla mettere e lo farai come azione gratuita. Nella versione Festival delle Lanterne abbiamo la possibilità di piazzare queste meravigliose lanterne e utilizziamo questi nuovi panorami grandi al posto di quelli base. Questi, come ti facevo vedere prima, sono davvero eccezionali. i disegni sono veramente bellissimi. Tu troverai il simbolo della lanterna sia su questi che ovviamente sulle nuove decorazioni che adesso ti faccio vedere. Sono qua. Eccole qua, le nuove decorazioni. Quando tu decidi di fare una decorazione e peschi queste, le fai vedere coperte in questo modo ai giocatori. Quindi dici essenzialmente che hai trovato una lanterna o in sostanza quando prendi queste carte fai vedere solo la carta, non fai vedere la parte di sotto, piazzi la lanterna in qualsiasi spazio perché puoi metterla dove vuoi e poi la vai a mettere in questa bustina qui dentro per il fine della partita. Perché? Per quale motivo? Perché essenzialmente queste, come puoi vedere, hanno un valore in punti vittoria, ok? Che va da 1 a 2 se non mi ricordo male e ho sentito dire che ci saranno anche dei valori negativi e tutto ciò è molto importante perché a fine partita il giocatore che vedrà con i suoi personaggi più lanterne otterrà tutte le monete che sono all'interno di quella busta. Ma ogni volta che piazzi una lanterna sia tramite una decorazione sia tramite un paesaggio, come ti dicevo prima, parte un'asta, ok? Essenzialmente il giocatore che ha deciso di piazzare una lanterna sceglie segretamente uno di questi bonus, ok? Noi lo abbiamo, vedi, segnato con una X e poi marcato che è stato scelto colorando il quadratino e tutti quanti i giocatori fanno una scommessa al buio su quello che è stato il bonus che quel giocatore ha scelto. Chi vince quest'asta si aggiudica il bonus. Bonus che poi non può essere più preso per il resto della partita, anche se poi puoi vedere ce ne sono due per tipo. Questa cosa delle aste devo dire che mi ha veramente colpito perché è davvero carina. Aggiunge questa dinamica molto interessante con un pochino di push or luck devi cercare anche di capire un po' che cosa vogliono fare gli altri giocatori e queste lanterne sono davvero davvero carine. Eccoci qua. Ora, se tu hai visto il mio video precedente su Thangarden sai che è un gioco che mi è piaciuto veramente tanto sia per il suo fantastico aspetto grafico, per la qualità dei componenti, per la semplicità delle meccaniche e comunque anche la sua profondità sotto un certo punto di vista pur rimanendo comunque un family game un gioco che praticamente puoi far giocare a chiunque. Ora, mi è stata data l'opportunità di provare queste espansioni le ho provate a dire la verità prima su Tabletop Simulator e poi adesso dal vivo e ovviamente dal vivo tutto un altro effetto e devo dire che ce ne sono alcune come hai potuto vedere molto interessanti che mi hanno colpito particolarmente folle a dirsi da parte mia alcune di quelle che mi hanno colpito di più sono quelle delle aste e non sono un grande fan delle aste e un'altra invece è quella cooperativa non pensavo che mi sarebbe potuta piacere adesso comunque ti voglio dare una sorta di parere aggiornato dopo che comunque è un bel po' che ce l'ho e che lo gioco insieme comunque a queste nuove dinamiche che sono date da questa espansione allora non posso parlare per i componenti ovviamente dell'espansione ma mi basta guardare i componenti della versione base per dirti che sarà sicuramente uno spettacolo per gli occhi e sicuramente uno spettacolo anche al tatto so che ovviamente verrà data ancora più cura ai componenti so che verranno rifatte tutte le miniature quindi riceverai tutte le nuove miniature so lo so non lo so non lo so cioè io lo so ma non so se tu puoi saperlo ma comunque ci sarà una big box che comprenderà tutto quanto in modo che potrai mettere il base tutte le espansioni comodamente in una scatola senza dover smontare niente quindi senza dover smontare gli alberelli senza dover smontare i padiglioni quindi nulla tutto bello comodo il che ovviamente è apprezzabilissimo l'unica cosa che ho avuto da ridire per quanto riguarda diciamo la grafica che poi non è la grafica perché parliamo dei simboli e della leggibilità sono proprio questi simbolini che sono sui panorami ma anche sulle carte e i simboli sono davvero piccoli li devi leggere così perché non si vedono benissimo però diciamo che poi ci fai l'abitudine perché incominci anche a legare l'immagine al simbolo perché i simboli poi rappresentano l'immagine che c'è sulla tessera sulle carte è solo un problema iniziale però è un problema per il resto componenti grafica meravigliosi e sono sicuro che l'espansione sarà altrettanto bella e di qualità non migliore tenendo presente che alcuni componenti verranno proprio rifatti per quanto riguarda il tema siamo davanti a un astratto fondamentalmente però ti devo dire la verità vedere questo giardino che cresce e si espande sì non ha senso quello che stai facendo in effetti a livello di meccaniche però è molto molto soddisfacente e bello infatti le meccaniche sono diciamo il cuore di questo gioco che però si trasportano tematicamente in una in un'atmosfera ecco di rilassamento perché si tu stai competendo in effetti con gli altri giocatori però però stai facendo un gioco in cui stai creando un giardino essenzialmente no è una cosa che visivamente ti rilassa alquanto meno a me rilassa particolarmente perché poi non è neanche un gioco troppo complesso che dici oh mio dio adesso devo pensare a quale azione fare c'è da dire che alcune delle nuove meccaniche come per esempio quella delle aste no o magari il cooperativo aggiungono delle dinamiche che possono essere un pochino più pesanti vogliamo dirla metterla così e non è solo il mio parere anche delle altre persone che lo hanno giocato non lo appesantiscono più di tanto lo arricchiscono ecco senza stravolgerlo senza cambiarlo incredibilmente come fanno determinate meccaniche determinati giochi pardon che poi non è detto che sia un errore però qui hanno voluto mantenere delle meccaniche comunque semplici adatte a tutti e gli hanno voluto dare quel pizzico in più di pepe per renderlo un pochino diverso e un pochino più profondo anche tra l'altro una delle nuove meccaniche di cui però purtroppo non ho i componenti comprende anche la meccanica del piazzamento lavoratori dove tu hai un unico lavoratore e questa nuova azione che ti permette di piazzare questo lavoratore è prendere delle risorse in base alle tessere che hai attorno quindi parliamo di acqua terra e legno acqua terra lì sono tre risorse adesso non me le ricordo con precisione comunque queste risorse poi ti servono per costruire queste pagode ok che vengono costruite sul tabellone e daranno poi determinati punti vittoria a fine partita in base al livello della pagoda che hai costruito tu e anche questa è una cosa molto interessante e di meccaniche ce ne sono veramente tantissime e so che ce ne saranno altre non ti posso anticipare nulla perché mi hanno detto di cucirmi la bocca ma aspettati tante grosse sorprese come è classico poi delle campagne kickstarter della thundergriff games questo gioco non è dispersivo è molto semplice piazzo una tessera oppure faccio le decorazioni anche aggiungendo le altre meccaniche perché poi si legano talmente tanto bene al resto anche l'asta che non c'entra proprio un tubo con la questione di costruire il giardino però ci sta bene e quindi non crea dispersività rimane sempre un gioco molto diretto e accessibile a tutti sicuramente chi ha un po' di esperienza con il gioco riesce a vedere qualche incastro in più degli altri ma ti dico la verità puoi giocare questo gioco con il giocatore esperto e il giocatore completamente inesperto allo stesso tavolo tranquillamente perché comunque nel suo turno farà sempre qualcosa non farà tanti punti non avrà una partita eccezionale ma comunque si divertirà e vedrà crescere questo giardino insieme agli altri regolamento il regolamento l'ho trovato buono quello del base anche quello dell'espansioncine quello ovviamente di seasons è ancora in fase di prototipo che comunque non mi ha dato tanti dubbi voglio dire poi sicuramente verrà ricontrollato come si deve verranno giunte tutte le immagini e gli esempi perché era proprio in fase di prototipo il regolamento per quanto riguarda i simboli te lo accennavo prima non è che ce ne siano granché però ecco sulle carte sulle tessere che poi vedi sono messe anche in questo modo queste tessere quindi devi essere nell'angolo giusto per poterle vedere ora non è che è impossibile vederle voglio dire poi basta guardarle una volta potevano farle leggermente più grandi probabilmente andavano magari a coprire un po' il disegno si sarebbe stato un peccato però ne avrebbe giubato ne avrebbe giubato sicuramente la leggibilità il gioco è indipendente dalla lingua completamente indipendente dalla lingua ma verrà fatto anche in italiano si verrà fatto in italiano perché è localizzato in italiano dalla Genos casualità bilanciata al determinismo ora in questo gioco un pochino di casualità c'è perché c'è la pesca delle carte però ci sono modi comunque per ovviarla ci sono delle varianti in questa nuova espansione che aggiungono un pochino di casualità però non è una casualità fastidiosa è una casualità sempre piacevole c'è anche un modo per mitigarla una versione per esperti che ti dà la possibilità di avere a disposizione delle carte decorazioni sempre scoperte e quindi puoi fare strategia su su quelle carte invece di doverle pescare il che è una cosa che può piacere sicuramente ai giocatori un pochino più strateghi però la poca casualità che c'è in questo gioco a me non dispiace affatto neanche quella che viene aggiunta con le varie nuove espansioni per quanto riguarda la curva di apprendimento come ti accennavo questo è un gioco davvero semplice sono tre regole in tutto quindi è un gioco che puoi insegnare a tutti è un gioco che può piacere a tutti perché nonostante le poche regole da una bella da una bella sfida comunque è ovvio che se sei uno che gioca solo cinghialoni probabilmente questo non è assolutamente il gioco adatto a te di contro è molto positivo che puoi farlo giocare anche a chi non ha mai giocato a dei giochi da tavolo voglio dire se tu presenti probabilmente ecco un carcassonne potrebbe essere anche più complicato che è sempre un piazzamento tessere potrebbe essere più complicato da presentare a un giocatore che ha totale digiuno di giochi da tavolo piuttosto che questo per quanto riguarda l'interazione questo è un gioco che ha un'interazione molto particolare perché rubare la tessera a un altro giocatore significa dargli particolarmente fastidio o magari rubare lo spazio per un personaggio o un altro giocatore competere con i padiglioni per le maggioranze le aste e tante 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 sfumature nelle nuove espansioni per quanto riguarda l'interazione che ovviamente è una nota molto positiva soprattutto il fatto che c'è una versione cooperativa che è molto interessante questo è un gioco poi tra l'altro che scala bene con qualsiasi numero di giocatori variabilità al setup ora già il gioco base ha una ottima variabilità le prime due espansioni gli danno un sacco di variabilità in più e con questa ultima espansione questo gioco ti durerà praticamente per tutta la vita perché ogni volta avrai un'esperienza diversa una partita diversa le regole bene o male rimangono quelle se ne aggiungono alcune riguardo alle espansioni però ti danno proprio quella sensazione di giocare qualcosa di diverso e nuovo ogni partita quindi incredibilmente apprezzabile per concludere cosa penso di questo gioco soprattutto con queste nuove espansioni allora come avrai capito e come magari saprai avendo visto il mio precedente video questo gioco mi è piaciuto veramente tanto l'unica vera critica che gli posso muovere magari è un pochino la leggibilità ma ci si può passare sopra dopo qualche partita per quanto riguarda queste nuove espansioni sono molto colpito le precedenti mi erano piaciute ma queste nuove non stravolgono ma come ti dicevo arricchiscono il gioco e me lo rendono me l'hanno praticamente riportato in vita non che fosse morto voglio dire però ecco era un po' che non lo intavolavo e con queste espansioni ho avuto il piacere di riportare sul tavolo un gioco che mi piace tantissimo e che ho in collezione che non mollerò mai e mi hanno dato la possibilità di guardarlo proprio da un altro punto di vista con delle meccaniche che mai mi sarei sognato di giocare in un gioco del genere quindi grandi 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 complimenti agli autori allo sviluppatore che è Pierre che ci ha dedicato veramente tantissimo a Gonzalo insomma mi hanno dato l'opportunità di provarlo di fare questo video di averlo in anteprima davvero una ottima espansione per un ottimo gioco ti consiglio ovviamente di andare a vedere la campagna Kickstarter ti rimetterò il link in descrizione così puoi andare a vedere anche i costi perché poi si parla sempre di quello alla fine vedere un pochino se conviene o meno ma di solito le loro campagne sono davvero ottime per quanto riguarda i prezzi ci sono tante esclusive interessanti che poi magari le puoi trovare in vendita e altre no poi tra l'altro a proposito di prezzo io quando vidi il prezzo di Tangarden e quando poi ho avuto la copia mi è arrivata a casa ho detto è impossibile che potesse costare così poco perché hanno fatto veramente adesso non me lo ricordo quanto costava ma tutta la roba che c'è nel base ha quel prezzo così basso incredibile e da quello che ho capito vogliono mantenere dei prezzi davvero equi nonostante sia un periodo veramente drammatico per partecipare a delle campagne Kickstarter e questo è tutto io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e rispondere appena possibile se ti piacciono i video che faccio considera l'idea di iscriverti al canale cliccare sulla campanellina lasciare un bel commento e un like così aiuti il canale a crescere io sono Flavio il Meeple con la camicia e ci vediamo alla prossima Grazie a tutti